buon pomeriggio a tutti benvenuti alla conferenza stampa di avvicinamento al match del match previsto per domenica 18 febbraio alle ore 19 contro la cona da reggio emilia siamo con lo schiacciatore simone parodi e il centrale giacomo russo simone partiamo da te dopo un periodo un periodo un po complicato sei tornato a disposizione infatti domenica con tu hai giocato per l'intera partita cioè 5 7 le tue sensazioni dal tuo punto di vista su come è nata la partita sia dal punto di vista della squadra sia tu personale ma guarda dal punto di vista personale sono sono abbastanza contento diciamo comunque sono due mesi che ero disponibile diciamo che ero pronto per poter scendere in campo e sono partito un pochino contratto e poi secondo me durante il match è andata bene peccato un pochino risultato finale però alla fine ce la siamo giocata punto a punto siamo partiti male poi si è riusciti sia caratterialmente che tecnicamente a stare a stare diciamo in partita e poi purtroppo punto a punto abbiamo perso però se vorremmo un bicchiere mezzo pieno secondo me abbiamo reagito a una partenza non delle migliori e poi si è riuscita a stare in partita ma non è andata quindi un punto l'abbiamo portato a casa e adesso pensiamo alla prossima e dobbiamo cercare di fare più punti possibile per stare attaccati alle prime sette squadre che secondo me è un obiettivo che si può ancora raggiungere molto difficile però ci proviamo. Grazie mille. Passiamo ora a Giacomo Giacomo a Cantù non hai avuto occasione di dare un contributo in campo ma ti abbiamo comunque visto molto partecipi e molto coinvolto nella partita come d'altronde tutta la partita come tutto il resto della squadra scusami quanto si soffre da fuori un tie break di questo tipo? Allora personalmente si soffre tantissimo in un tie break del genere perché in campo si cerca sempre di aiutare gli altri e si è più presi dal gioco mentre quando si è in panchina si ha più tempo per ragionare ansie l'unico modo per scacciarle è fare il tifo come facciamo tutti noi e cerchiamo sempre di portare avanti la squadra insieme. Grazie. Un'altra domanda per Simone Parodi focalizzandoci su domenica arriva Reggio Emilia presentaci la gara e come vi state avvicinando a questo appuntamento che per la KMASLAMIP diventa molto importante venendo come risultati da tre sconfitte di fila al di là delle prestazioni. Ma guarda secondo me loro sono una buona squadra la classifica purtroppo non le dà ragione però secondo me sono una squadra che gioca molto bene a pallavolo con degli elementi molto validi e noi dobbiamo allenarci come abbiamo fatto gli ultimi mesi secondo me ci stiamo allenando molto bene esercizi completi comunque che ci danno ci danno fiducia però purtroppo poi la domenica non si è riusciti a mettere a mettere a mettere a mettere in atto però secondo me siamo sulla strada giusta e la partita sarà molto complicata soprattutto perché arriviamo da alcune sconfitte quindi magari mentalmente partiremo forse un pochino contratti ma dobbiamo cercare di di mettere quello che quello che facciamo durante la settimana che secondo me potrebbe bastare per portare a casa dei punti importanti. Domanda per Giacomo Russo una domanda scomoda ma parli penitenza per la giovanità parliamo degli alti e bassi di questa squadra vittorie prestigiose e prestazioni anche in qualche set inferiori a livello della squadra da dentro dallo spogliatoio dall'interno diciamo della squadra quando ne parlate come ve lo spiegate questo up and down con un calo nella condizione fisica una superficie nell'approccio da alcune gare con il fatto che non si può essere sempre al massimo oppure l'impegno quello non è mai mancato quale può essere la spiegazione allora sicuramente come sono detto l'impegno non è mai mancato perché ogni giorno cerchiamo in allenamento anche nelle partite di mettere tutto quello che abbiamo certo delle volte per indisponibilità fisiche o per altri motivi non si riesce sempre ad esprimere il miglior gioco però come come si è notato non siamo forse potremmo possiamo migliorare nell'alternare prestazioni di livello altissimo come quelle con grotta quelle comprata a limitare prestazioni dove non siamo riusciti per niente nel nostro gioco come contro reversa ad esempio di certo noi lavoreremo su questo magari alcune delle possibilità è che forse se una squadra molto giovane pecchiamo l'esperienza non saprei ma di certo ci lavoreremo e cercheremo di migliorare di riuscire a mantenere un livello buono in tutte le partite una domanda per timone mancano sei giornate alla fine dal 14 aprile inizierà la del monte coppa italia dove tutti sperano che i lupi possano giocare da protagonisti ti piace la nuova formula più lunga e organizzata a fine stagione se consideri la final four di cuneo come un obiettivo ma guarda partiamo dal fondo secondo me si potrebbe essere un obiettivo raggiungibile per noi e dobbiamo focalizzarci sia su quello che sul fatto che comunque come detto prima sarà molto difficile ma possiamo ancora entrare nelle prime sette quindi è giusto che noi ci lo diamo come obiettivo e arrivare al final four a cuneo sarebbe bello perché comunque sia per me personalmente che per la squadra giocare in un palazzetto come cuneo è un bello stimolo e secondo me è bello per le squadre che magari non riescono a entrare nei play off potrebbe essere una cosa molto bella perché non finiscono campionato magari ad aprile continuano a giocare un evento importante magari per le prime squadre che si giocano due eventi così importanti magari nel giro di 20 giorni un mese potrebbe essere un pochino più complicato però arrivano potrebbero arrivare molto in forma in quel periodo quindi si giocano comunque due due obiettivi in un periodo nella quale sono sono molto in forma quindi secondo me potrebbe essere una bella formula e potrebbe potrebbe andare bene tanto che in sede abbiamo giacomo russo approfittiamo per fare anche una domanda sulla serie b giacomo tu sei uno degli elementi di punta appunto della della serie b dei gruppi santa croce arrivate oltretutto da quattro vittorie consecutive e sabato vi aspetta una parte importante una parte molto importante con foligno tra l'altro tra le mure del palaparenti quindi se riesci a farci al volo un commento sulla recente partita contro ponte d'era e poi un tuo commento sulla condizione della squadra anche in riferimento al prossimo evento certo come abbiamo potuto vedere nel derby di ponte d'era noi siamo una squadra con molti alti e bassi essendo molto giovani e siamo passati dai primi due setti in cui non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco a 3 7 di alto livello per il campionato di serie b certo stiamo lavorando molto in palestra per trovare la nostra continuità il nostro stile di gioco penso che siamo riusciti a trovare una quadra come dimostrano queste quattro vittorie consecutive credo che nel girone di ritorno riusciremo a fare molti più punti ad esprimere la nostra nel campionato quindi andare in meglio per il prossimo match cercheremo di mantenere questa linea e di proseguire con questa serie di vittoria grazie mille e siamo con luca gaffonio responsabile commerciale di all'appunto azienda center 2000 un'azienda informatica con specifiche competenze nell'ambito della concia e quindi la prima domanda a luca è proprio cosa di cosa si occupa un'azienda che fa informatica nel settore consario capisco l'importanza della domanda la l'azienda informatica center 2000 è un'azienda che si è sviluppata sul territorio a santa croce ed è dedicata ha dedicato la sua la sua storia proprio allo sviluppo di un software specialistico e verticale per tutti gli aspetti della produzione della conceria che sono come diciamo molti conoscono molto particolari e differenti da un altro settore industriale che potrebbe differenziarsi la conceria ha necessità di esperienza e di presenza sul sul territorio ha parlato appunto di software c'è qualche approfondimento che vorrebbe fare a proposito di questo in questa sede beh come come center 2000 e diciamo come capogruppo di un gruppo di aziende informatiche specializzate nel mondo conciario center 2000 ha lanciato da poco una nuova suite di prodotti software smart tanneri che abbraccia tutto il tutto il possibile scenario del della conceria dalla più piccola conceria dal terzista fino alla grande conceria che si occupa di di appunto di grandi produzioni e questo è un nostro diciamo vanto perché la produzione è realizzata per buona parte quasi tutta santa croce direi ottimo perfetto grazie mille sottolineiamo inoltre il fatto che luca è l'unico volontario per sottoporsi a questa intervista quindi lo ringraziamo molto non solo siamo molto orgogliosi di ospitarvi per la conferenza stampa infatti piccola conclusione le voglio chiedere al di là del fatto che è un'azienda con cuore pulsante a santa croce e che appunto dedica tutta le sue risorse nello specifico campo conciario che a santa croce è molto forte cos'è che lega center 2000 ai lupi santa croce allora dal mio punto di vista non dal punto di vista aziendale dal mio punto di vista mi lega alla pallavolo l'aver giocato da ragazzo e poi scartato perché troppo basso ovviamente e come sente 2000 ci lega il fatto di volere essere un'azienda eccellenza eccellente che rappresenta una squadra eccellente ottimo grazie mille domanda per cricolese corso corso tor su tu Grazie a tutti.